Buongiorno amici, oggi andiamo a scoprire i nostri amici animali in lingua italiana. Il cane, i cani, cane di piccola taglia, cane di media taglia, cane di media taglia, di grossa taglia, il cane avvaia, il gatto, i gatti, il gatto, miagola, il criceto, i criceti, il pesce rosso, i pesci rossi, il canarino, i canarini, il canarino, cinguetta, il pappagallo, i pappagalli, il pappagallo, cingotta, Il video tutorial è terminato, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto, ciao! Ciao!